Fate nascere qualcosa di nuovo, ecco l'augurio di Pasqua da parte di Don Andrea per i bassanesi. Gite, grigliate, lancio di uova, tanta voglia di stare all'aperto, ma la Pasquetta è anche in famiglia. Nei giorni in cui Made in Veneto trionfa sulla tavola, il governo stoppa i cibi sintetici. Decine di Capitelli a Tezze, la grande passione di Francesco Cerantola per le edicole votive. Gritti antichi, tradizioni sconosciute e ormai quasi dimenticate, ecco la Pasqua di Poppy Frison. A Cassola il comune cerca personale per garantire entrate e uscite in sicurezza dalle scuole del paese. Stato dato alle stampa come un regalo di compleanno è l'autobiografia minima di Elio Armano. Raccolta differenziata di rifiuti finanziati con i fondi PNRR 16 Progetti, presentati da Etra. Buonasera e buona Pasqua, benvenuti al Tg Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con le parole di Don Andrea Guglielmi proprio in occasione della Pasqua. Don Andrea, Pasqua 2023, un augurio da fare a tutte le persone che ci stanno seguendo. L'augurio che farei è questo, che prendere spunto da quello spazio vuoto che è il sepolcro. Pensando a tanti spazi che oggi rischiano di svuotarsi, mi viene in mente ad esempio il convento dei frati Capuccini, ma se ne potrebbero fare tanti di esempi, prendere spunto da questo spazio vuoto per entrare in una prospettiva non di depressione, tristezza, rancore, rivendicazione, ma immaginare anche questo spazio vuoto come l'inizio anche di nuove possibilità, di nuove opportunità, anche di entrare in una prospettiva più generativa che non recriminatoria. Quindi l'augurio è che nasca qualcosa di nuovo. Siamo usciti da un periodo difficilissimo, sono stati anni tremendi. E questa potrebbe essere l'occasione per una vera e propria rinascita. Io penso che anche questi anni del Covid hanno dimostrato che l'unica possibilità di reggere che abbiamo nella nostra vita è sempre a livello comunitario, a livello relazionale. È l'insieme che fa la differenza, sono le connessioni e i legami che fanno la differenza. Credo che anche questo sia un messaggio pasquale, perché se c'è qualcosa che nasce a Pasqua, ai piedi della croce o attraverso lo spirito, è proprio la comunità. Cos'è che desidera lei in questa Pasqua? Cosa desidero? Forse il desiderio che ho è di vedere dentro di me e fuori di me, nella più ampia comunità bassanese, che insieme a tanti altri, anche i miei colleghi, frequentiamo, vedere un misto tra la fantasia e la concretezza. Essere creativi e quindi essere anche pronti a entrare in una mentalità progettuale, fantasiosa nel senso di metterci anche a tavolino per immaginare scenari e prospettive, con la concretezza di chi sa che bisogna fare dei passi sostenibili. Cercare di capire chi è veramente il debole e com'è possibile sostenerci reciprocamente. Oggi è anche una giornata di festa, domani, vediamo che tempo farà, ma la speranza è quella di poter passare proprio del tempo all'aria aperta. Ci sono tante proposte, ci sono tante idee, abbiamo sentito che cosa faranno i bassanesi. E i programmi per Pasquetta? Ma guardi, non so, non ho ancora affatto programmi. Noi abbiamo il camper e perciò i programmi ce li facciamo così in velocità. Forse andremo al mare, se il tempo è bello e si scalda un po' l'aria, andremo al mare. Nessun programma per Pasquetta. Vediamo il tempo. Eh, se bisogna vedere, sì. Vediamo il tempo. Quindi si decide l'ultimo minuto? Sì, quest'anno sì, va così. Altrimenti se no che cosa è di tradizione da fare? Qual è? Gliettina in Brenta. Eh, sì. Gliettina in Brenta, sempre sta fatta. Dovevamo andare al mare, ma alla fine penso che finiremo in Brenta. Grigliata? Penso proprio che sì. Con un bel gruppo di amici? Sì. Famiglia, sorella, cognato, nipoti. Dove nel Brenta? In realtà o al parco dell'amicizia o verso Santa Croce. Speriamo nel bel tempo. Sì, speriamo. Niente. Sto a casa. Neanche un picnic? No. L'avevi festeggiata la Pasquetta? Sì, una volta. C'è troppa gente in giro, quindi preferisco andare quando non ce n'è tanta. Gita fuori porta quest'anno che si può? No. Resterà a casa? Sì. Approfitta del bel tempo, di questa bella zona? Abito qui e ne è una bella zona. Che cosa le piacerebbe fare? Ah, niente. Di solito andiamo a Asiago. A Asiago fare un giro, vedere se c'è la neve o no. Vedere i monti. Di solito quindi è un appuntamento un po'? Sì, sì. Che ci piace. Programma una bella gita a Pasquetta? No, no, no. No, perché mi manca la materia prima. Sai cosa è la materia prima? I mari. E mi non ho. E ora cosa faccio? Abbiamo sentito qualche idea, ma di proposte ce ne sono tante. Vediamone alcune. Cosa fare a Pasquetta? Le proposte nei comuni del Bassanese non mancano a partire proprio da Bassano che ha fissato per le 10.45 l'appuntamento all'ufficio turistico IAT per la tradizionale visita guidata del centro storico. A Cartigliano il lunedì di Pasquetta si potrà festeggiare nel parco di Villa Morosini Cappello dove le famiglie troveranno area giochi, gonfiabili e giostrine per bimbi insieme allo street food. A Teze sul Brenta viene invece riproposta Pasquetta in Brenta, la manifestazione organizzata dalle associazioni di volontariato del paese, festa per grandi e piccini, stand gastronomico e area picnic allestiti nel parco dell'amicizia. Per gli sportivi e gli amanti della natura un'idea potrebbe essere quella di partecipare alla passeggiata sul Colle di Dante a Romano Dezzelino con lo spettacolo dei parapendii a fare da cornice. Come dicevamo di cose da fare ce ne sono tante, di cose se ne facciamano tante anche una volta nel passato, alcune sono state perse di vista, altre ce le ricorda Popi Frisò. Sono giorni di festa, è tempo di Pasqua, il momento giusto per riscoprire usanze e tradizioni e lo facciamo in compagnia del nostro esperto di storia locale Popi Frisò che vediamo impegnato, Popi cosa stai facendo? Stavo cercando un sasso, pensate che al giovedì santo addirittura nella Lessigna sparano i trombini, quei caratteristici fucili a canna mozza. E dalla gloria del giovedì santo fino alla gloria del sabato santo le campane non suonano, allora com'è che si fa a mandare dei segnali dalla chiesa? Con le racole, a Istrana ne hanno realizzata una di enorme e messa nel campanile, il Re Begon. Ah, ma a me interessava questo sasso per il sabato santo al momento del gloria. Ho trovato in un libro del 1800 che nel cadore, al momento del gloria, se tu prendi un sassolino e lo lanci lontano da te, dentro la chiesa, esanzare ne te becca più per tutta l'istate e tien lontane. Roberto, a questo punto non ci resta che lanciare il sasso. Buona Pasqua a tutti. Vedremo se funzionerà. Adesso ci spostiamo invece a Tezze sul Beretta dove c'è una persona che per passione personale proprio porta avanti una sorta di diffusione della cultura, dei capitelli, delle edicole votive. Incontriamo Francesco Cerantola lungo la pista ciclabile a Campagnari di Tezze nel punto in cui ha realizzato ben tre capitelli edicole votive dove le persone si fermano per depositare un fiore, una candela e recitare una preghiera. Una grande passione la sua nata 60 anni fa. Il primo che ho fatto, assieme a Savio Pietro, l'ho fatto in via Tre Case, l'ho fatto che avevo 18 anni, poi è stato stato fermo un periodo, adesso sono dieci anni che abbiamo fatto e sono arrivato a quota 24. Capitelli che si trovano soprattutto nel comune di Tezze, costruiti in segno di devozione ai Santi, spesso dedicati alla Madonna. Mangia tanta polvere per farli perché bisogna segare la pietra e poi con il voto picco si rompe, poi si mette il pavimento, si fa tutto quanto che si ha da fare. Io li faccio per Luca Marchetti, i capitelli, lui che ha l'iniziativa di farli, io li faccio. L'ultima opera votiva che Cerantola ha creato è per proteggere questo grande crocifisso in legno posizionato all'ombra degli olivi. Abbiamo piazzato il vetro l'altro giorno nel Presigas, ho messo il ghiaione qua davanti e si vede proprio tutta la gente che passa, si ferma e dà un'occhiata, ma rifà il segno della croce, una preghiera, insomma è un bel segno. Ogni capitello ha un sacco di oggetti sacri, diciamo, perché ci sono immagini della Madonna, altre candeline, fiori, vuol dire che la gente ci tiene, che ci siano questi capitelli, sono significativi per uno che ci crede. E il terzo capitello, quello famoso del lato vandalico di fine anno. Questo come vede ha un sacco di oggettini sacri, diciamo, il fiore, la croce, è bello. Questo qua è stato vandalizzato, è stato restaurato molto bene. Adesso speriamo che più nessuno ci metta la mano. Abbiamo visto la passione del signor Ceranto, abbiamo visto delle idee per il tempo libero, abbiamo visto che cosa farà la gente in questi giorni di festa, ma in questi giorni c'è anche chi lavora e c'è chi lavora anche vicino alle persone più fragili. Vediamo. Io lavoro come osse, lavoro in una struttura e mi tocca lavorare per Pasqua, Pasqua e Pasquetta. Come si fa? Volentieri oppure è pesante lavorare a Pasqua e Pasquetta? Per me è volentieri, stare in una struttura vicino agli anziani, ben venga, lo faccio molto volentieri. A parte tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, le residenze per anziani, dove chi lavora in questi giorni di festa cerca di creare un'atmosfera di casa per gli ospiti. Festeggeremo qualcosa, faremo un po' di attività, un po' di animazione. Com'è essere al lavoro a Pasqua? Guardi, sono tantissimi anni che faccio questo lavoro e ormai sono quasi abituata, cioè nel senso che le feste non si fanno poco in famiglia. Operatori che sono diventati anche famiglia per gli ospiti dei centri servizi per anziani nel periodo durissimo del lockdown. Non hanno sempre i familiari e quindi, anzi, c'è stato un periodo dove non li hanno proprio visti, quindi siamo noi un po' la loro famiglia, diciamo, ecco. E quindi sia Natale, Pasqua, ricordiamole, abbiamo ricordato le palme. Poi insomma, adesso c'è anche l'animazione, però durante le festività e weekend l'animazione non c'è, quindi insomma cerchiamo un po' di animare noi. Insomma, ecco. Faremo comunque dei giochi con i vecchietti per farle sorridere a me e anche loro che sono chiusi lì dentro. E poi si spacca l'uovo. Ovvio, si mangia tutto. Come avete sentito, fin qui il cibo è una parte davvero importante per la Pasqua dei Veneti e proprio in questo periodo in cui il Made in Veneto, il Made in Italy, trionfa sulla tavola e il governo decide di dire di no al cibo sintetico. No al cibo sintetico, alla carne coltivata e nemmeno al latte e mangimi artificiali per gli animali. Questa è la decisione del governo italiano che con l'approvazione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici invia un segnale forte rispetto a quanto sta accadendo in altri paesi. Una legge, prima al mondo, che vieterà la possibilità di commercializzare e produrre in laboratorio gli alimenti di cui ci nutriamo. Una battaglia che porta con sé anche la firma di Coldiretti, da sempre schierata contro il cibo sintetico e a difesa del Made in Italy. La nostra idea di cibo è abbastanza ben diversa perché non intendiamo un prodotto che serve solo a alimentarci e a portare dei supporti per poter vivere. Per cui per noi cibo è sapori, è distintività, è mille territori, è mille esperienze, per cui un valore ben più alto. Intanto passi in avanti anche per quanto riguarda l'introduzione in commercio della farina di grillo. Non abbiamo, ripeto, pregiudiziali perché, è chiaro, personalmente preferisco altro. Però, insomma, ecco, non è comunque sia, si tratta di insetti, comunque sia naturale. Consumatori che troveranno in etichetta tutte le informazioni per garantire chiarezza e qualità. I consumatori dovranno trovare, alla luce di questo provvedimento, comunque ben indicato in etichetta, la composizione e soprattutto la presenza anche di queste componenti, di queste farine o di queste parti di insetto. E quindi come tale dovrà essere ben identificato. Verrà posto anche poi in posizioni separate, diciamo, rispetto all'altro. Per cui un po' l'ipotesi è come il gluten free, insomma, no? Come vediamo, o altri prodotti. Per cui, ecco, onestamente credo sia un elemento davvero importante. Vedremo come proseguirà questa, chiamiamola, battaglia. Un altro tema, che comunque ha ricadute economiche molto importanti, è quello dei saldi, per così dire, liberi. Sentiamo. Di lei che cosa ne pensa di avere i saldi tutto l'anno? Eh, sarebbe una buona cosa. Sinceramente, se c'è da risparmiare qualcosa, ben venga. Pensa il controcaya, tanti ci tiene, io non ci tengo, insomma, ecco. Sarebbe io, insomma, lei? No. Uno che piace una roba, costa meno o meno, no? Lei vorrebbe vedere i saldi tutto l'anno nei negozi? No. No. Come mai? Sicuramente no, perché non lo trovo giusto. Lei vorrebbe i saldi tutto l'anno? No. Come mai? Perché mi sembra giusto avere un certo periodo di saldo, anche perché ogni tanto c'è una variazione di prezzo un po' particolare, cioè cose che costavano molto, che magari sono ridotte, però non sono cose dell'anno, sono un po' i fondi del magazzino. Lei vorrebbe i saldi tutto l'anno? Sarebbe bene, però, invece che fare tanti punti misteri, che faccia sconto sulla roba che compra. Beh, perché no, questo può andare bene per la clientela, per vendere, ben venga, insomma. Che non sia una cosa che gli altri approfittano per liberare le rimanenze, insomma, ecco. Sì, è una cosa chiara. Sì, ma con chiarezza, quindi. Con chiarezza, esattamente. Cosa ne pensa dei saldi tutto l'anno? Eh, penso una cosa buona quella. Bello, tutto l'anno saldi. Sì, tutto l'anno va benissimo. A me andrebbe benissimo. Ma proprio bene, perché aspettare i saldi quando la stagione è finita, non è che hai tanto, te lo devi tenere fino l'anno prossimo. Deve incrociare le dita che ci sia ancora l'articolo che vuole. Va bene. Voltiamo pagina ancora, vediamo una ricerca di aiuto da parte del Comune di Cassola. AAA cerca Anzia Cassola nuovi sorveglianti scolastici per garantire entrate e uscita da scuola in sicurezza agli alunni dei plessi comunali. L'opportunità è rivolta ai cittadini anziani o pensionati, ma anche ai soggetti più giovani, disoccupati o impiegati in lavori saltuari. Con reddito annuo lordo non superiore a 8 mila euro. Novità di quest'anno potranno presentare la propria candidatura anche i residenti nei comuni con termini a Cassola, per i quali verrà redatta una graduatoria a parte. L'incarico si svilupperà nel corso degli anni scolastici 2023-2024, 24-25 e sarà richiesta in media una decina di uscite settimanali, per le quali si prevede un corrispettivo di 15 euro l'ora con copertura assicurativa a carico dell'ente. La domanda dovrà essere presentata in comune entro le 12 del 5 maggio prossimo. Per la pagina culturale vediamo un libro di Elio Armano. Autobiografia minima, così ha voluto intitolarla Elio Armano, artista e politico padovano. Un libro, una carrellata, che dalla copertina che ritrae la nonna disegnata da un Armano sedicenne, ripercorre le tappe di una vita e di una carriera densa di esperienze. Dentro sono riuscito anche a parlare dei disegni, dei ritratti che facevo a mia nonna da ragazzo e poi di tante esperienze che ho fatto, soprattutto di tipo culturale e artistico, ma sono intrecciate anche con le mie esperienze nelle istituzioni e nella politica. Quella di alcuni anni fa, che è molto molto diversa da quella di oggi, sulla quale non entro neanche perché non vorrei dire cose troppo dure. Nato come un promemoria, una nota per illustrare una mostra è diventato un libro edito in 300 copie in cui raccontarsi. Un tempo la democrazia era più vivace, veniva fuori dalla guerra, c'era la speranza e il rinnovamento. Negli anni giovanili, quelli miei, c'erano grandi movimenti operai e studenteschi. Insomma c'era la speranza di futuro, fame di futuro. E c'erano grandi partiti popolari che sorreggevano l'impalcato istituzionale. Adesso è come che fossimo davanti a un fenomeno, che non è solo italiano purtroppo, che potremmo chiamare con grande preoccupazione la stanchezza della democrazia. Tra le ultime produzioni di Armano, gli occhiali a visione filtrata, come fossero dei paraocchi frontali? E' come avessimo qualcosa davanti agli occhi che ci impedisce di vedere. E' una declinazione nel mio lavoro del tema delle teste vuote. Crediamo tutti di avere la testa piena della nostra personalità e invece è piena di messaggi altrui. Sono dei paraocchi più che degli occhiali per vedere. E appunto dicono vediamo quello che ci si fa vedere, non quello che non c'è. Soldi del PNRR per migliorare la raccolta dei rifiuti. Strutture intelligenti per l'ottimizzazione e la raccolta dei rifiuti, realizzazione e potenziamento dei centri di raccolta. Sono 16 progetti messi a punto dal Consiglio di Baccino-Brente in capo a Etra, finanziati dai fondi PNRR, con oltre 10 milioni di euro di contributi. Si tratta di fondi dedicati a finanziare la rivoluzione verde e la transizione ecologica. In particolare le strutture intelligenti, casolenti stradali o esilo ecologiche interrate saranno realizzate per ottimizzare la raccolta con uso di contenitori ad accesso controllato. Le infrastrutture recintate e sorvegliate sono pensate per l'ottimizzazione del conferimento di rifiuti come ingombranti e pericolosi. Per questi giorni di festa si rilancia una festa molto importante per l'Alta Padovana. Con gli antichi mestieri dei campi si riscopre la tradizione. A Campodoro torna la festa della trebbiatura che porterà nel piccolo paese del Padovano una mostra di antiche macchine che venivano usate nei campi per il raccolto. Ci sono diverse iniziative promosse dalla biblioteca. Abbiamo una festa importante dal 22 al 25 giugno che è la festa della trebbiatura dove ci sarà una mostra importante di trattori, motori stazionari e da quest'anno, novità, le macchine a vapore. Ma la tradizione si riscoprirà anche a livello culinario e non solo. Oltre naturalmente alla mostra di trattori, lo stand gastronomico, ci saranno anche gli antichi mestieri e quindi si rivive un po' quelle che erano le tradizioni dei nostri nonni. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguriamo ancora una buona Pasqua e una buona serata.